Musica Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione di RTV38 che fa l'appunto sull'attività del nostro Parlamento, il Consiglio regionale della Toscana. Apriamo questa puntata, questo appuntamento con i due lutti che hanno caratterizzato il dibattito in questi giorni, la scomparsa dell'ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi da un lato e nelle stesse ore un lutto che ha colpito invece il mondo del cinema, della cultura e in particolare il territorio toscano con la scomparsa di Francesco Nuti, due figure che il Consiglio regionale ha voluto ricordare con dei momenti di raccoglimento appunto nell'ultima seduta e in particolare si è molto dibattuto attorno anche all'eredità politica della figura di Silvio Berlusconi. L'ultima seduta del Consiglio regionale si è aperta con un minuto di silenzio per ricordare la figura di Silvio Berlusconi scomparso all'età di 86 anni. Berlusconi, ha ricordato il Presidente Antonio Mazzeo, è stato Presidente del Consiglio dei Ministri dal 1994 al 1995, poi dal 2001 al 2006 e infine dal 2008 al 2011, deputato per 5 legislature e senatore per 2, compresa l'ultima, fondatore del Popolo delle Libertà e di Forza Italia ed è stato un protagonista indiscusso degli ultimi 30 anni della storia del nostro Paese, non soltanto dal punto di vista politico ma anche a livello imprenditoriale e sportivo. Stiamo ragionando tutti insieme su quello che abbiamo passato insieme al Presidente Berlusconi per chi per esempio, per come me, dal 1993 in questa comunità politica, facendo 30 anni di militanza accanto a tante donne e uomini che insieme al Presidente hanno costruito questo partito e che hanno cambiato radicalmente il voto di questo Paese. La domanda vera è che Paese sarebbe stata l'Italia senza Silvio Berlusconi, sarebbe stato un Paese sicuramente meno libero, meno competitivo, sarebbe stato un Paese culturalmente peggiore rispetto a quello che il Presidente ha lasciato. Ho avuto il piacere di conoscerlo quando era nel pieno proprio della sua attività imprenditoriale, aveva appena acquistato il Milan, venne a Firenze, mandò il dottor Galliani, e prese Massaro il sottoscritto e da lì iniziò la conoscenza con la persona, che fu la prima volta ad Arcore, dove ci convocò tutti e cinque nuovi acquisti e lì conoscemmo di persona proprio il Presidente. Era un uomo, era un visionario, un uomo che aveva delle grandi prospettive in tutti gli ambienti dove lui si è calato, aveva proprio una visione che era vent'anni avanti a tutti. Uno dei più grandi personaggi del Novecento, forse veramente con la scomparsa di Berlusconi si chiude il Novecento italiano, finisce il secolo sterminato, come lo definiva Marcello Veneziani in un suo libro, quindi si chiude veramente un'epoca di storia che è stata per noi l'epoca in cui ci siamo avvicinati alla politica. Io ho votato la prima volta quando Berlusconi era appena disceso in campo, quindi per me Berlusconi ha rappresentato tutta la storia politica, a volte condividendone le idee, a volte no, ma ha rappresentato sicuramente una pagina indelebile della mia vita e della vita di tutti quelli che oggi condividono con me l'esperienza dei Fratelli d'Italia. Ho condiviso la scelta del Consiglio regionale di sospendere i lavori, di fare una giornata di lutto nazionale anche dei nostri lavori, di un momento di riflessione di colui che è stato un innovatore della politica, che ha cambiato il sistema politico, oggi si parla di bipolarismo, perché lui ha creato il concetto di centrodestra e di centrosinistra che non esisteva nella Prima Repubblica, ha creato una dicotomia, ha portato avanti le proprie stanze liberali, io sono sempre stato dall'altra parte, non l'ho mai votato, l'ho sempre criticato, il mio impegno politico nasce antitetico alle politiche e alla figura di Berlusconi, che oggi viene riconosciuto però come un soggetto politico importante, una personalità, un Presidente del Consiglio che è stato più di 3.300 giorni a guidare il nostro Paese, colui che più di ogni altro nell'epoca repubblicana ha guidato l'Italia, che ha innovato il sistema della comunicazione, che ha fatto impresa, che ha creato grandi successi nello sport, una grande personalità che viene riconosciuta oggi, forse del quale oggi tutti, mi auguro, possono portare rispetto, io in primis lo porto e riconosco la correttezza di fermarsi un giorno, perché quando una personalità di questo calibro lascia il nostro Paese, è corretto che poi ciascuno di noi si interroghi su quello che ha prodotto e di come ha innovato la Seconda Repubblica. Dopo il ricordo di Silvio Berlusconi, il Consiglio regionale, sempre su proposta del Presidente Antonio Mazzeo, ha osservato un minuto di silenzio per commemorare la figura di Francesco Nuti, regista e attore pratese, scomparso poche ore dopo l'ex Presidente del Consiglio all'età di 68 anni. Nei giorni in cui tutta la Toscana e tutto il Paese hanno guardato con grande apprezzione a Firenze la vicenda della piccola Cata, il tema della protezione e della tutela dei minori è entrato anche all'interno dell'Aula del Consiglio regionale con l'approvazione della relazione annuale dell'attività della figura della garante dei diritti dei minori e dell'infanzia. L'Aula del Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con il voto favorevole del Partito Democratico, la proposta di risoluzione sulla relazione sull'attività svolta nel 2022 dalla garante per l'infanzia e l'adolescenza della Toscana, Camilla Bianchi. Si è preso atto dell'attività del garante nel corso del 2022, nel fatto che il garante abbia dovuto affrontare le esigenze tradizionali collegate alla tutela dei minori nel territorio toscano ma anche a esigenze sopravvenute, derivate soprattutto dalla prosecuzione ancora nel 2022 dell'emergenza sanitaria che ha posto rispetto ai minori una serie di attenzioni particolari. Così come intensa è stata l'attività del garante con riferimento al tema della guerra in Ucraina, anche per quanto riguarda il trattamento dei minori stranieri non accompagnati e anche il trattamento che deve essere riservato ai profughi dall'Ucraina. Contrario il voto di Forza Italia, non si sono espressi Gruppo Misto, Toscana Domani e Fratelli d'Italia. Io ho fatto un richiamo alla concretezza, un richiamo alla necessità di avere ben chiaro quale percorso dobbiamo fare. È inutile avere 500 garanti in regione Toscana che sono solo poltrone e sono solo costi. Dobbiamo individuare su quali politiche puntare. In primo luogo le politiche per la famiglia, perché da nucleo familiare, qualunque esso sia, io non ho nessun tipo di preclusione, parte che cosa? L'educazione, il futuro anche delle giovani generazioni. E certamente oggi più che mai dobbiamo avere, ripeto, ben chiaro anche che tipo di risorse mettere in campo. Le figure vengono dopo. Oggi dobbiamo solamente capire questa regione che tipo di indirizzi e quante risorse può mettere in campo su famiglie e politiche giovanili, senza scordarci quello che io ritengo essere un caposaldo che dovrebbe stare alla base anche della programmazione in questa regione, il patto generazionale. Oggi tanti ragazzi non hanno le stesse possibilità che hanno avuto nei decenni passati i nostri genitori. Capire che questo gap generazionale va colmato con delle politiche efficaci, con risorse importanti, io credo sia un altro segnale. Quindi meno garanti, meno poltrone, più politiche, diciamo, efficaci per famiglie e giovani. Mentre la Lega non ha partecipato al voto. Indubbiamente non è stato un periodo facile quello degli ultimi anni, anche per quanto riguarda il mondo dell'infanzia. Lo stesso Garanti ha formulato tutta una serie di osservazioni per quanto riguarda la didattica a distanza, l'utilizzo della mascherina a scuola, la vaccinazione. Noi crediamo che questi temi si debbano affrontare anche con un approccio costruttivo che tenga conto del periodo che abbiamo vissuto e di un interesse collettivo. Quello che noi diciamo è che c'è molto da fare per migliorare le risorse a disposizione delle Garanti per l'infanzia e dell'adolescenza, se ci crediamo davvero. Perché altrimenti si rischia di avere quello che lo stesso Garanti parla, un vuoto simulacro. L'Aula ha inoltre approvato l'emendamento che richiama l'attenzione sui crescenti problemi, anche effetto della pandemia da Covid-19, legati al disagio psicologico e alle dipendenze che affliggono i minori e sulla conseguente necessità di investire, a tutti i livelli istituzionali, nella prevenzione, nell'accesso a forme di supporto adeguate e nelle azioni di sensibilizzazione al fine di incidere in modo positivo e duraturo sulla vita di bambini e adolescenti. Anche il tema della cultura ha trovato spazio, come sempre, nelle stanze del Palazzo del Pegaso. Tra le iniziative in arrivo che sono state presentate è quella degli amanti del blues, conosciutissima tra gli amanti del blues, a Torrita di Siena. Il festival del blues che sta per tornare e che caratterizzerà un fine settimana. Torrita di Siena Torrita di Siena si veste a festa per Torrita Blues, 35esima edizione del Festival di Musica che si svolgerà nel Borgo, nel cuore della Toscana, dal giovedì 22 a sabato 24 giugno. Torrita Blues è uno dei più importanti festival europei che si svolge da oltre 30 anni in un bellissimo paesaggio nel cuore della Toscana. Quest'anno siamo arrivati alla 35esima edizione. Direi che siamo uno dei festival più longevi in Italia e oso dire anche in Europa. Quest'edizione è particolarmente ricca perché si apre con una cosa anche un po' particolare perché la scena tradizionale che facciamo giovedì 22 giugno è in collaborazione alla Copp Firenze in quanto parte degli utili andranno devoluti al progetto Casa Marta e quindi raccoglieremo dei fondi anche per questo progetto. Un evento importante, un evento che racconta bene la bellezza di una Toscana diffusa. Torrita Blues renderà Torrita la capitale toscana della musica, del blues in questi giorni. Un evento importante, un evento da far conoscere, un evento che tiene insieme cultura, che tiene insieme arte perché Torrita è uno dei borghi più belli della nostra regione, che tiene insieme anche la capacità di saper fare solidarietà. Questa è la Toscana. Ci sarà una cena in cui le risorse verranno messe a disposizione di Casa Marta. Un luogo bello, un luogo importante, un luogo che aiuta i bambini che soffrono. Quindi grazie davvero per queste giornate che siano momenti di festa, di divertimento, ma anche di solidarietà. L'estate alle porte e si sono festeggiate le chiusure degli anni scolastici qualche giorno fa e termina quindi anche la stagione di lavoro del Parlamento regionale degli studenti della Toscana. Nell'ultima seduta c'è stata l'occasione per fare il bilancio di un anno di attività. Sono stati mesi pieni di emozioni, di intenso lavoro e molto formativi per tutti noi. Abbiamo messo in campo 18 progetti di cui andiamo orgogliosi. Così la Presidente del Parlamento regionale degli studenti, Maria Vittoria D'Annunzio, nell'ultima seduta dell'anno a Palazzo del Pegaso. Tra le tante iniziative ricordate l'incontro con Vera Vigevani-Yarak, attivista e scrittrice, testimone di una delle pagine più buie della nostra storia, lo scorso 16 febbraio. Ma anche la visita al Parlamento europeo per conoscerne il funzionamento. Non ultimo il progetto sul contrasto alla violenza psicofisica nello sport, presentato al Teatro e la Compagnia di Firenze il 15 maggio scorso. Oggi è l'ultima seduta della legislatura del Parlamento regionale degli studenti della Toscana, che vede con la fine dell'anno scolastico anche la fine della legislatura. Sono stati tanti gli incontri e gli eventi che abbiamo portato a termine quest'anno, fra i più importanti la visita di una delegazione del Parlamento a Bruxelles, alle sedi del Parlamento europeo, per conoscerne il funzionamento. Non solo, anche un evento portato a termine contro la violenza psicofisica negli sport. E fra gli incontri che più ci sono rimasti nel cuore, di sicuro l'incontro con Vera Vigevani-Yarak, ovvero una madre e una donna che è scappata dall'Italia durante il periodo dell'Olocausto e che anni dopo ha visto scomparire la figlia fra i desaparecidos. È stato un anno pieno di emozioni, un anno pieno di incontri che ci porteremo per sempre nel cuore e sicuramente è stato un anno molto formativo per tutti noi. Anche per questa settimana è tutto e vi ricordo che potete continuare a informarvi sui lavori e attività del Consiglio regionale visitando il sito www.consiglio.regione.toscana.it La nostra trasmissione invece torna la prossima settimana. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Grazie a tutti.